... Gli ex parcheggiatori protestano in consiglio comunale dopo la messa in esercizio dei parcometri nelle aree di sosta chiuse, i lavoratori prendono d'assalto la sala comunale. Urla e improperi rivolti al sindaco e all'aggiunta, rei addetta dei parcheggiatori di non aver mantenuto le promesse fatte dopo la scadenza dei vecchi contratti di un loro reinserimento lavorativo. Un clima incandescente che ha portato la polizia municipale e gli uomini della Digos a fare da spartiacque fra la parte dei banchi consigliari e quelli del pubblico fino a che la seduta è stata sospesa per ricevere una delegazione di lavoratori. In tarda mattinata un nuovo vertice tra il sindaco Paolo Foti e il comandante dei vigili Arvonio per valutare una nuova soluzione. L'orientamento per la verità, già emerso a margine dell'infocato consiglio, è quello di valutare nuovamente e di affidare la gestione delle 11 aree di sosta alle cooperative di tipo B, prevedendo il reintegro dei parcheggiatori. Un'inversione di marcia? Dal confronto di stamane emerge la volontà di venire incontro alle esigenze dei lavoratori, una soluzione tampone per i prossimi 20 giorni in attesa del bando. Da qua per 20 giorni si farà la gara pubblica, in attesa che si fa la gara prendendo tutti i nominativi i ragazzi fanno come vigilanza e delle manutenzioni, di pulizia nelle cose e alla fine devono valutare che possono prenderlo mensilmente. Io che faccio capo di tutti questi ragazzi devo portare i nominativi al sociale. Dopo ho fatto questo, i ragazzi tengono la manutenzione non da parcheggiatore, come pulizia delle aree o una guardiania, come devono mettere le macchine a posto, adesso devo parlare con i ragazzi se sono d'accordo, non posso prendere da solo la mia responsabilità di tutto. E ci ho fatto la richiesta, se si passano 20 giorni, un mese, questi ragazzi che guadagnano, questi tengono famiglia, tengono figlio. Io ho una risposta, ma che scendo dal comune, i ragazzi vogliono sapere, dice cosa hai fatto. Ma loro se sono d'accordo si va su questo orizzonto, se no altrimenti non lo so i ragazzi cosa vogliono decidere. Questa è stata la richiesta dell'amministrazione, che temporaneamente li metto a tutti, ci do in nominativa nelle aree a fare la pulizia, a far mettere le macchine a posto, ma non come vigilanti di ausiliari al traffico.